Passeggeri distratti, vulnerabili creature, soggiocate dal tempo, forze dissolte nel buio, abbracciano fragilità avverse al destino, aspiriamo a forme geometriche prestabilite, schiavi di ossessione e materia, necessità di liberarsi dalle catene impregnate dal regolamento per contemplare l'essenza. La risposta giace nell'istante in cui si assapora l'amore recondito, lasciare tracce per insegnare la vita.